Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qui con la famiglia Crescito Di nuovo! Gli Elitz Con Cernano! Oggi andremo a fare la francesina Io partirò con 7 punti perché inizio in porta Visto che sono portiere e proprietario del canale E tutti gli altri con 5 punti Sapete già come si gioca quindi partiamo! Quindi ragazzi si parte? Questa è un tiro al bersaglio Tutto di prima Tutto di prima In porta Rabilità 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 4 3 Vai dietro Vai subito 4 3 3 Ognuno si ricorda il suo numero 2 Quanto sta? Ognuno si ricorda il proprio numero 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 8 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 Ho fatto la maglietta Nooo Sì Sì Ehi Rivolta A tre A tre Dai a tre Dove Ehi Quattro Quattro Ehi 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 Nooo Nooo Vai Ehi 3 3 Un jackino di senzionario Nooo Quattro Nooo Quattro Lascio Bimbo Bimbo Bazzetto Quattro Guardi Mico Nooo Mico Lo bigano Cappiendo Ah Oh Vai Passa Passa Non Vale la vendetta la vendetta ma servita allora noi ti puoi dimenticare guarda non male non c'è il portacalzo guarda un po guarda un po guarda un po guarda un po Nero! 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 1 2 3 2 Vieni tu! Vieni tu! Vieni a passarti! Tieni! Tieni! Niestro! Dietro! Qua! Vieni! No! Lo sapevo che dovevo shottare 4 Porta! 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 1.56 3 3 3 Vabbè detto! No! Porta! Porta! No! Porta! Quanto? Quanto? Capi! Porta! Quanto sei dentro? 4 Oh! Che cazzo! Porta! Rietro! Rietro! No! No! Si è forte! Si è forte! Porta! Mandatemi a casa! Mandatemi a casa! Lascia! Vai Ale! Oh! Porta! Si va! Quanto stai? 2 Come 2? Non eri a 1? No! Era 1! Bravo! Bravo Ale! Ora sono 2! Qua c'è qua dietro! No! Dietro! No! Porta! 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 Oh no! Porta! 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 Ale Ale! Dai! Eh io è pieno! Come è pieno! Come è pieno! Come è pieno! Svuotalo! Vai! In testa non c'è! 3! 3! 2! Oh! Ah! 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 Vieni via dalla porta! Quanto sei? 1! Ma come ha 1? Mimmo è lì! Mimmo è lì! Mimmo è lì! È lì! È lì! Ciao Tati! Ciao Tati! Saluto il tuo canale Tati! Che bello! C'è 2 Ale! Mirko! 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 Mi conto sei! 1! Ah! 4 Mirko! Come ha 4? 3! 3! Mi faci di tirare a Mimmo! Avrei! 2! Oh! 1! Oh! Mi tocco! Mimmo! Ah! Mimmo! 1! 1! Eeeeee! Ciao! Ciao! Mi importa! 3! 3! 2! Inietro! Si! No! Vai! 1! 2! 1! 1! 1! Ciao! Inietro! No! Inietro! No! Vale! Sei più forte sei! No! Basta! Un giorno faremo queste challenge e ci batterei tutti a testa bassa! No! Out! Anche sa! Oh! Miseria! No! 4 sono! Eeeeee! 3! 3! Oh! 1! No! 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 Veroci! 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 Passalo! 2! Vai che sta avanti questo! Ando un tocco! Occhio! Vai giù! Vai giù! Vai giù! Porta! Vai giù! No! 3! 3! Maledetto bastardo! Si è! Oh! Porta! 2! Tira cagone! Oh! 6! 1! Oh! Date l'home! Date l'home! No! Anto! Non ci credo! Quanto è? 1! Anto! 2! No! Si! È buono! Anto! Quanto sei? Sai 1 Harry eh! No! Quanto aveva visto? Anto dove cacchio sei uscito! Visto quanto sei? Esci! 1! 1! Oh! Vedeto! Oh! Ciao! Vai! Porta! Vedo resiste! Harry! Attenzione a Mimbo! Eh! 3! Minato! Ti tocca il porta! Ciao! 4! 3! 3! 3! 3! Io 1! Oh! 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 Eccolo! Oh! Maledetto! Tira piano! Tira piano! Tira piano! No! Passami col pallone! Oh! Madonna che paura avete! Il video! Oh! 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 Ehi! Facciamo fare la preparazione! Oh! 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 Ah! Porta dedo! 1! 1 però! Tutti 1! Tutti 1 è vero! 2! 0! Come ho fatto prima due mie rigore ad Alessandro! Vai! Vedo controale! Primo rigore! Vado! 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 Vai! 1 a 0! 3 rigori eh! 1 a 1! 1 a 1! Ragazzi! Se segna dedo tu a 1! Vediamo un po'! Sbaglia! Vai segna! Vai Ale! Pari! Vediamo un po' dedo se segna! Il vantaggio dedo se sbagliare è finito! Se sbaglia è decisivo eh! Se fa colare ha vinto! No! No! Ha vinto dedo! Ha vinto dedo! Ha vinto dedo! Bua! 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 Quindi ragazzi questa challenge la vince Alfredo! Vado! Eeeee! Quindi ragazzi lasciate un bel mi piace un commento iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video.. Bene ragazzi! Ciao! can I be your superhero superhero